Qualità della vita, bambini, giovani ed anziani sono i tre indicatori presi in considerazione nella seconda edizione dello studio calcolato ciascuno su 12 parametri statistici forniti da fonti certificati. È stata presentata ieri in anteprima al Festival dell'Economia di Trento. A Osta è la provincia con la migliore qualità per i piccoli, intesa come fascia di età da 0 a 14 anni, 107 le province elencate. Nella classifica finale dei bambini che prevede 12 indicatori Avellino è 71esima, 90esima per numero medio di figli per donna, basso il tasso di fecondità, 42esima per numero di pediatri attivi sul territorio ogni 1.000 residenti, 31esima come spazio abitativo calcolato nel rapporto tra componenti delle famiglie e metri quadrati, seconda in classifica per numero medio di bambini presenti nelle classi delle scuole pubbliche. Sempre per le scuole si cala, picco per il livello di accessibilità nelle scuole senza barriere, dove Avellino è 82esima, 101esima per gli asili nido, 94esima per i giardini scolastici. Meglio per il verde attrezzato dove siamo al 12esimo posto. Si cala ancora nella voce edifici scolastici commenza. Avellino è al 74esimo posto, malissimo per lo sport, 96esima provincia su 107, 55esima per gli edifici scolastici con palestre, nona per i delitti denunciati ai danni di minori. Nella classifica che riguarda i giovani, la nostra provincia si pone 75esima a livello complessivo, all'ottantesimo posto per la disoccupazione giovanile, 70esimo posto per i laureati, 73esimo posto per bar e discoteche, 81esima per aree sportive dedicate ai giovani, 47esima per gli amministratori comunali under 40, 16esimo posto per l'imprenditorialità giovanile, 24esima per il quoziente di natalità, cioè calcolato a un anno dal matrimonio, 99esimo per l'età media del parto.